Ci sono televisori, ci sono materassi, ci sono tapparelle, ci sono sacchi di immondizia, ci sono mobili, c'è di tutto, materiali edili. È sempre lei che all'asdraio sotto l'ombrellone preferisce in questo caldo agosto le vie di Arezzo, quelle nascoste e quelle più centrali, i parchi, le aree verdi, per scovare gli incivili e coloro che stanno dando di questa città una brutta immagine. Dietro ai bidoni ci sono materiali edili, sacchi di quelli verdi, quelle bag verdi, con tutti i materiali all'interno. Queste foto raccolte dalla consigliera di Oraghinelli, Mary Cornacchini, raccontano di una inciviltà purtroppo ancora molto radicata nell'aridente Arezzo. Rifiuti ingombranti, abbandonati nei pressi dei Cassonetti o nel primo anfratto appena fuori dal centro città. Rifiuti anche pericolosi, siringhe nei parchi pubblici, qui siamo al Pionta. Il Pionta è in una situazione di degrado tale, anche se hanno tagliato l'erba ci sono siringhe ovunque, bottiglie ovunque, quindi quel famoso articolo 43 del regolamento di polizia urbana non viene rispettato. Bagnaia è una discarica, ci sono mobili, ci sono materassi, c'è di tutto. Da lì altri pochi metri, agazzi, stessa situazione. Io mi faccio un giro di quei 10-20 minuti tutti i giorni e trovo il delirio. Non mi spiego come mai chi dovrebbe vigilare sul territorio queste cose non le vede. Disattesa anche l'ordinanza del sindaco Ighinelli di non consumare alcolici lungo le strade pubbliche. No, non si può avere, però basta andare nei piccoli spazi verdi, basta andare lungo le strade, io stamattina ho trovato il delirio. Una situazione in questo modo, di abbandono rifiuti e una situazione non controllata, è una cosa che non tollero, perché si può controllare il territorio. Lo faccio io da semplice cittadina, non lo faccio per lavoro o per stipendio, ci sono degli enti preposti che lo dovrebbero fare. Ci mettiamo di impegno oppure si fa sempre tante chiacchiere, cioè la situazione va cambiata.